Ben tornati in questa nuova parte di Medieval Allora, vi avevo detto che andavamo di nuovo a casa mia, nella cripta di Dan La cripta di Dan, il miglior posto in cui cercare un Dan morto Già ce l'hai detto Però dobbiamo cambiare qualcosa Perché non me lo fa cambiare? Ah, ecco qua Sardana Oh, oh Qua ci vuole Ma la spada lunga l'ho presa Sì, lo scudo Mi serve lo scudo Dove devo andare? E' tua mummia, Dan E ancora abbiamo abbastanza anime Usiamo una vanga Per scavare e trovare il nostro calice Io non lo capisco proprio Dobbiamo prendere la chiave Scusatemi ragazzi Ma devo prendere la chiave Ah, c'è la vita Stai usando fiala di borigio Ecco, sono qui Ah, io sono l'eroe di Gallomir Come osi chiamarmi in questo modo Metto a fuoco Scusate Così mi mettete un bel like Ah, la spada lunga La spada lunga ora mi dà Ho messo a fuoco Ah, si può mettere anche a fuoco Non lo sapevo Scusate Tu sei una scimmia stortita Ah, è il caso di prendersela con loro Prendi la mia spada lunga E cerca di non campartela in un piede Grazie Oh, beh, grazie comunque Grazie La voglio provare Questa benedettissima spada Usciamo Però ragazzi Dovrò dirvi Addio a questa puntata Bene ragazzi Domani farò un altro episodio Che si chiama Il mausoleo di Hilltop Non lo faccio tutt'ora Perché sto registrando Fra 4 minuti E eccetera di secondi Che sono quasi 5 minuti Bene ragazzi Spero tanto che questo video Sia piaciuto Mettete un mi piace Se vi è piaciuto il video E scrivete nei miei commenti Se ho dimenticato qualcosa E ciao ciao da viaggio